Servono interventi di elettricisti, muratori, vetrai, idraulici e ancora non bastano. Gli uffici tecnici del Comune stanno lavorando il più alacremente possibile per ripristinare l'agibilità del mercato coperto di Lanciano. Un luogo devastato, come ha sottolineato il Sindaco Mario Pupillo, dopo aver ripreso possesso della struttura forzando nell'ingresso. La ditta incaricata della messa in sicurezza dell'area ha posizionato le pannellature verticali per interdire l'accesso ai box privati dei banconi in acciaio. È il primo intervento da fare, assieme alla raccolta e smaltimento dei rifiuti lasciati dalla manovalanza dell'ex gestore, che ha asportato di tutto fino a pochi minuti prima che l'amministrazione comunale rientrasse in possesso dell'immobile come da ordinanza del TAR. Cosa manca nei dettagli sarà indicato nella relazione che il settore lavori pubblici del Comune sta preparando. Dopo aver ripristinato l'agibilità dell'edificio, l'iter per la riapertura proseguirà tra lo sportello unico delle attività produttive e la ASL provinciale. Non sarà riutilizzato tutto lo spazio della struttura, che è di circa 3.000 metri quadrati, ma sicuramente i servizi igienici, che non sembrano danneggiati, e l'ampio anello che gira intorno ai box, ovvero l'area dove sono soliti posizionarsi gli ortolani con le loro mercanzie. Il Comune gestirà direttamente il mercato coperto attraverso l'ufficio commercio, che rilascerà anche le concessioni agli ortolani. L'intenzione è quella di riaprire nei giorni del mercoledì e del sabato, dice l'assessore Francesca Caporale, affidando ad una cooperativa l'apertura e chiusura dell'edificio, oltre alla pulizia dei locali. Gli ortolani sono pronti a rientrare. In una trentina hanno già manifestato interesse ad avere posto nella struttura.